e allora Simo con Palacios ufficiale all'Inter si è chiuso il mercato nerazzurro l'ultimo acquisto di questa lunghissima estate un'estate che è stata abbastanza monotona in termini di mercato per l'Inter perché si è fatto tutto in grande anticipo Zinischi e Taremi presi in larghissimo anticipo Joseph Martinez un colpo che sa un po' più di futuro ti metti intanto un secondo più affidabile di alto livello alle spalle di Sommer ma programmi già il prossimo futuro Ausilio d'altronde lo aveva detto era il 22 aprile subito dopo aver vinto lo scudetto aveva detto che il mercato dell'Inter era praticamente concluso noi ci abbiamo riso sopra effettivamente è stato così e allora in un mercato che ha visto tante squadre rivoluzionarsi e chi c'è chi ha cambiato l'allenatore e qualche giocatore c'è chi ha cambiato tantissimi giocatori e anche l'allenatore comunque chi più chi meno c'è stata una grande rivoluzione in questo campionato soprattutto ai piani alti guardando soprattutto alle nostre rivali lassù io stavo pensando allora mi sono rivisto il nostro commento a caldo del mercato dell'anno scorso e mi è venuta sempre più l'idea di un Inter che l'anno scorso ha affrontato questa sorta di rivoluzione con tanti giocatori cambiati quindi quello che l'idea che mi son fatto io di questo mercato è che l'Inter è un anno avanti almeno rispetto agli altri in termini di programmazione senza contare che l'allenatore è qui già da più tempo e che questo mercato dell'estate 2024 è un mercato che va in parte a completare quanto fatto l'anno scorso con due variabili di contesto da prendere come riferimento e da non sottovalutare uno è stato un mercato a livello internazionale molto strano con tantissimi casi esplosi affari saltati visite mediche che poi vengono annullate l'Arabia Saudita che è entrata in scena solo in questa parte finale e non in maniera così devastante come l'anno scorso la Premier League che ha fatto girare soldi solo al suo interno quindi sono girati tendenzialmente pochi soldi e quindi anche cedere è stato difficile per tanti non solo per l'Inter seconda cosa è stata un inter che arriva da un cambio di proprietà che per quanto Octree fosse già dentro l'Inter eccetera eccetera inevitabilmente porta ad avere delle difficoltà in questo contesto così complesso l'Inter ha deciso di proseguire sulla strada della continuità ha deciso di puntellare questa rosa e da squadra campione in carica esce da questo mercato secondo me comunque rafforzata perché ai classi in essenza che sono usciti ha emesso Zienis che il loro posto Taremi prende il posto di Sanchez Martínez per me è un upgrade di Audero e Palacios è un prospetto di futuro è un mercato che rinforza la squadra già fortissima campione d'Italia forse non perfetto ci sono alcuni punti della rosa che potevi andare a migliorare ulteriormente ma hai blindato tutti i big e anche la prima estate in cui finalmente non vediamo partire un big eh sì hai fatto tutte considerazioni corrette mi è piaciuta soprattutto quella sulla questione dell'anno di anticipo nella programmazione perché in effetti sembra essere proprio così l'anno scorso l'Inter ha cambiato letteralmente mezza rosa e aver vinto un campionato aver stravinto un campionato dopo aver cambiato letteralmente mezza rosa non è affatto una cosa scontata e quest'anno al contrario ha potuto sfruttare il gran lavoro fatto l'anno scorso per eh confermare in blocco la rosa di fatto sono stati confermati quasi tutti di quelli tra virgolette utili tutti perché mi spiace dirlo ma Sensi e Klassen non li abbiamo praticamente mai visti Quadrado idem Audero qualche volta l'unico di quelli che sono stati effettivamente presenti seppur non titolare è stato Sanchez gli altri delle meteore e nulla di più sul tema della continuità io più volte in questa estate mi sono speso dicendo che è un valore da tenere sempre più in considerazione nel calcio nel calcio di oggi perché non si può ragionare sempre solo sui mille acquisti sulle rivoluzioni perché ci piace vedere giocatori nuovi e vedere milioni buttati sul tavolo sicuramente esalta questo tipo di dinamica ma non si deve sottovalutare la continuità non si devono sottovalutare i rinnovi di contratto di giocatori importanti dell'allenatore che eh decidono di proseguire insieme e e sono comunque quelli che hanno rinnovato Inzaghi Lautaro e Barella sono in primissima fila nel progetto Inter insieme a Bastoni di Marco e Cialanoglu credo che siano questi di fatto e e questo è un valore che secondo me nell'anno nel corso dell'anno ci darà una mano poi sul discorso che alcune cose si potevano magari comunque un po' migliorare io la penso così magari ci torniamo adesso nel prossimo discorso secondo me si poteva fare qualcosina di più però a bocce ferme dire che l'Inter non si sia rinforzato non si sia rinforzata lo trovo molto complicato gli hai detti tu prima gli acquisti poi c'è chi dice quelli che sono un po' vecchiotti caleranno di sicuro per me il di sicuro nel calcio non esiste quindi a bocce ferme siamo più forti se poi caleranno faremo metteremo le cose sulla bilancia e vedremo da che parte pende maggiormente sì che poi come dico sempre se magari qualcuno che invecchiando cala un po' ci sono quelli come i bis che carlos agosto i frattesi che hanno un anno in più di inter di inzaghi e probabilmente cresceranno o comunque le probabilità possono essere le stesse quindi anche questo va messo sul piatto io simo l'anno scorso dicevo per dare un voto al mercato valuto intanto quali erano gli obiettivi richiesti e quindi l'anno scorso bisognava rendere la rosa competitiva per la stagione innanzitutto ma abbattendo i costi e abbassando l'età media della rosa quest'anno gli obiettivi sono un po' cambiati nel senso che l'Inter si sta riavvicinando alla sostenibilità e c'era la possibilità di aumentare anche di un po' il costo squadra e invece adesso c'è da capire le ultimissime uscite siamo in sospeso con Rado e Salcedo nel momento in cui stiamo parlando però tendenzialmente l'Inter andrà a mantenere quel costo squadra nonostante dei rinnovi di contratto molto molto pesanti quindi rinnova i big si tiene tutti i propri giocatori li blinda eppure riesce a tenere il costo squadra così dentro i paletti del settlement agreement quindi risultato economico raggiunto l'abbassamento dell'età media della rosa diciamo che è passato tramite anche questa nuova linea portata da Oktri dell'andare a pescare giocatori più giovani da valorizzare il colpo Martinez va in questa direzione soprattutto il colpo Palacios è un colpo questo ancora un po' da identificare intanto per come ci si è arrivati si fa male Buchanan si decide di andare a prendere un difensore mancino con con tanta richiesta sia da parte di Bastoni da parte di Inzaghi da parte di Ausidio lo hanno chiamato dopo una lunghissima trattativa dopo aver valutato altri profili che piano piano sono sfumati si è deciso di andare su questo giocatore che non ha ancora una grandissima esperienza fa un salto dall'Argentina in Italia ed è quindi ancora un po' un oggetto da scoprire da capire quando effettivamente verrà impiegato però Simo se appunto hai avuto l'abilità di partire l'anno scorso con la rivoluzione riuscire comunque a vincere quest'anno sembri effettivamente più avanti degli altri in termini di progetto ecco se non integri ora questo tipo di giocatori qua quando farlo è il momento migliore probabilmente penso proprio di sì ma su questo purtroppo per fortuna siamo nelle mani di Inzaghi che ha uno storico non felicissimo da questo punto di vista rispetto al concetto di coraggio e di fiducia totale nel lanciare giocatori giovani o molto giovani però può essere che magari il cambio di approccio della proprietà si rifletta a cascata anche sulla dirigenza in primis nel modo di lavorare e l'allenatore lo staff nel modo di gestire questi nuovi profili che vengono considerati importanti da Ok3 e che magari con la presidenza Zhang lo erano un pochino meno su questo ribadisco siamo nelle mani di Inzaghi e il discorso che hai fatto rispetto alle necessità dell'Inter e al come dire alla al modo con cui tu arrivavi alle premesse con cui arrivavi e poi al fatto che tu le abbia più o meno confermate secondo me è il punto di partenza perché noi abbiamo delle opinioni ne abbiamo discusso tantissimo durante l'estate però una parte del ragionamento non può ignorare tutto questo cioè la nostra opinione è legittima poi alla fine si deve capire anche cosa la dirigenza ha sempre detto e ritenuto di dover fare e cosa ha fatto e poi per come la vedo io si mixa eventualmente questo tipo di valutazione con le nostre valutazioni personali e arriva il voto se proprio vogliamo dare il voto e su questo la dirigenza aveva sempre detto cerchiamo di confermare il più possibile rinnoviamo i giocatori importanti completiamo con giocatori che alzino il livello della della panchina allungando la rosa in maniera qualitativa e questo ha fatto ha rinnovato i più importanti ha confermato tutti ha aggiunto tre giocatori anzi quattro con palacios che sono più forti di quelli che c'erano negli stessi posti l'anno scorso tra l'altro l'acquisto di palacios è anche indirettamente utile perché intanto riporta carlos augusto definitivamente nella sua posizione e probabilmente dico io ci riporta anche buchanan nella sua posizione perché a questo punto immagino che si ricomincia a ragionare sul fatto di metterlo a destra con un darmi anche anche lui alla sua età ad un frischio contigo non convincere quindi magari a cascata può avere anche altri vantaggi l'acquisto di palacios detto che in tanti sollevano il dubbio poi abbiamo chiuso l'estate con tre tormentoni serviva il difensore centrale più giovane al posto di acerbi e devrai penso che sarà la grande operazione su cui andranno ad investire l'anno prossimo secondo me a meno che non vadano a parametro zero su jonathan ta per esempio è un profilo che hanno sempre monitorato o altri nomi di questo tipo il grande investimento per me arriverà lì al centro della difesa tra un anno l'esterno destro se ne è parlato tantissimo con dunfris ancora un rinnovo che entrerà nel vivo dopo la chiusura del mercato si vocifera di un dunfris che potrebbe ottenere una clausola rescissore nel contratto da 15 20 milioni di euro beneficerà ancora del decreto crescita quindi 4 milioni di euro circa che dovrebbe andare a prendere non pesano come i 4 di di marco ma pesano meno grazie al decreto crescita e a quella cifra può essere vendibile a quel punto quindi uno potrebbe dire allora continuiamo a lavorare su buchanan in previsione di un possibile addio appunto di dunfris con questa formula o anche del fatto che prima o poi bisognerà sostituire darmian che per il momento non accenna a voler lasciare quella fascia a dunfris nonostante l'età che passa e poi è già stato il tema dell'attacco uno dei nei che sicuramente abbassano un po' la valutazione di questo mercato è la grande difficoltà nell'andare a piazzare vari giocatori arnautovic e correa sono rimasti entrambi alla fine in zaghi la spunta nel senso che lui comunque aveva detto parlato delle cinque punte uno di probabilmente correa rimarrà fuori dalla lista uefa non penso che terranno fuori palacios oppure mi sorprenderebbe ecco vedere correa arnautovic inseriti lista champions e palacios fuori nel momento in cui hai invocato così tanto l'acquisto di di un nuovo difensore lì mancino e e tanti giocatori ecco la questione radio salcedo ripeto non è ancora definita hai faticato a piazzare anche altri giocatori durante tutta questa estate che ti hanno bloccato un pochino di operazioni come il caso satriano eccetera e ecco simo anche questo va valutato sono però soprattutto arnautovic e correa degli errori che hai commesso nelle scorse stagioni che stai pagando ancora oggi e non era francamente facile è esatto esatto io infatti dei tre ruoli che più sono stati citati in quest'estate cioè il difensore centrale l'esterno destro e la quarta punta in realtà il mio mirino eventualmente nella critica verte più sull'esterno perché nei difensori tu hai due giocatori uno abbastanza in là come a cerbi l'altro un po' meno però cerbi ci dimostra anche nelle partite che abbiamo giocato finora che la condizione sembra esserci è un uomo di inzaghi è difficile che con un contratto all'attivo si possa rompere il rapporto che comunque è anche molto positivo ci sono anche queste dinamiche da considerare a livello di spogliatoio e quindi lì probabilmente come dicevi prima fai un ragionamento sull'anno prossimo stringi i denti ancora questa stagione hai comunque delle soluzioni tra bis e pavar anche bastoni con cui provare a coprire in caso di necessità in attacco in attacco ci sono arnaut invece correa praticamente invendibili salsedo e satriano lo erano stati pure loro e quindi anche lì c'era questo problema era anche una questione di spazio proprio tra i giocatori a disposizione ecco lì forse non si è fatto fino in fondo perlomeno da quello che possiamo percepire noi da fuori la pressione effettiva e decisiva per spingerli alla porta da una parte secondo me su arnautovic lo dico da un po sottovoce perché non si era convinti fino fino in fondo evidentemente è un profilo che a livello anche ambientale tutto nella squadra viene apprezzato il mister lo apprezza quindi non c'era questa necessità che invece dicono di avere tanti tifosi di mandarlo via su correa invece questa cosa c'era adesso rimarrà non so quanto spazio si troverà però anche lì entrambi scadono l'anno prossimo e poi anche dire vabbè invece che magari forzare l'uscita dovendo quindi non risparmiare molto perché magari devo contribuire all'ingaggio oppure dare delle buone uscite e poi andare a pescare un giocatore che non mi convince fino in fondo stringo i denti tengo qui arnautovic un altro anno e l'anno prossimo riparto con tre garantiti e fortissimi devo prenderne uno solo faccio il colpo giusto e completo per bene il pacchetto è un po lo stesso ragionamento del difensore diverso sull'esterno cioè lì hai un darmian che ok sta facendo ancora il suo noi ridiamo anche su questo su questo discorso il darmian esterno che spesso viene criticato e poi fa bene però comunque alla sua età in un 352 secondo me sarebbe importante avere un esterno di un altro livello dunfri se si continua a dire rinnova sono cinque mesi che deve rinnovare ancora non rinnova e comunque cifre importanti e sta ancora in panchina ecco lì per esempio si poteva personalmente pensavo si poteva inter provare ad intervenire in una maniera diversa e invece secondo me proprio non si è neanche pensato di farlo si è deciso vabbè rimaniamo con questi perché questi hanno vinto lo scudetto e ok quella è l'unica cosa che non mi ha convinto fino in fondo io simo faccio due considerazioni finali l'anno scorso tu avevi detto una cosa che era interessante e che a maggior ragione ricondivido oggi cioè prima non ci potevamo permettere di avere due giocatori per ruolo sostanzialmente o di averne comunque due di buon livello l'anno scorso avevamo fatto un passo avanti quest'anno il passo avanti mi sembra ancora più netto guardando la rosa cioè dove vedi un potenziale punto debole cioè magari nell'attacco nelle alternative comunque ai due giocatori per quanto non è che due insieme ne fanno uno forte però tra Arnautovic e Corea non sono del tutto affidabili ne hai due sostanzialmente ma in generale ogni titolare ha la sua alternativa Palacios è da testare ma è un giocatore giovane su cui lavorare e tutti gli altri ruoli ecco sono sono coperti con più o meno dislivello come ad esempio Cial Aslani ma Aslani quest'anno ha senso tenerlo anche in ottica lista in serie a non occupa slot e ti fa e ti fa comodo l'altro discorso è che un anno fa parlavamo di un mercato finalmente per la prima volta forse di grande sintonia tra la dirigenza ed inzaghi quest'anno è un mercato che va ancora di più in quella direzione soprattutto dopo aver vinto uno scudetto e allora io ti chiedo per l'entusiasmo per accendere ulteriormente la piazza io avrei gradito un colpo e questa cosa mi rimane un po qui cioè un bel acquisto di spessore una ciliegina su questo mercato io l'avrei ampiamente gradita e una squadra che ha appena vinto lo scudetto in termini sportivi se la meriterebbe pure però questo ci fa fare un po i conti con il tipo di proprietà e con la situazione in cui è l'inter per cui l'animo mio tifoso ribolle perché avrebbe voluto un bel colpo per poter sognare ancora più in grande però facciamo i conti con la realtà attuale alla luce di tutto questo se sei d'accordo anche con questo secondo mercato molto l'ina con inzaghi l'obiettivo di quest'anno con questo mercato è provare a confermarsi in italia perché questo sei obbligato a tenerlo come obiettivo avendo lo scudetto sul petto quindi questo per forza in champions league ne ha parlato proprio marotta dopo i sorteggi parlando di primi otto posti come uno scenario che magari sulla carta può sembrare un sogno ma che poi si traduce anche in realtà è chiaro che ci vuole anche tanta fortuna tanti incastri positivi però sia per il sorteggio avuto sia per la rosa che hai puoi quantomeno ragionarci e sognarlo se poi non dovesse essere di certo non sarà un fallimento e almeno per me e per quanto riguarda poi le coppe tra virgolette minori penso che quest'anno lì qualsiasi cosa venga cioè andrà bene tra virgolette non sarà il rendimento in supercoppa in coppa italia a creare i problemi e poi sul mondiale per club vedremo sul fatto del mercato in sintonia credo di sì perché poi in zaghi quando ha parlato vabbè lui non è uno che fa grandi polemiche mai pubblicamente però non ho mai percepito grandi non detti ingombranti lui ha insistito molto sul discorso del difensore sto difensore gliel'hanno portato spero che gli possa piacere questo palacios però queste mille urgenze che abbiamo commentato durante l'anno derivavano più da discorsi fra i tifosi che non internamente quindi non credo che ci sia questo tipo di di problema e quindi di fatto sì questo è guarda chiudo rapidamente su quello che dicevi dell'entusiasmo è verissimo che il colpo di mercato ti dà grande entusiasmo secondo me ti dà più entusiasmo il colpo di mercato che la vittoria del trofeo arrivo a dire quindi lo capisco ricordo quanto ero contento quando l'interprese ericsson quindi figurati però ti ribalto il ragionamento che hai fatto se tu oggi fai un grande colpo intanto dove lo metti ovunque tu lo vai a fare devi togliere qualcuno e non è scontato e non è facile inoltre se tu oggi fai un mercato così a parte che due colpi che sarebbero stati considerati in questa maniera se fossero stati pagati per me li hai fatti perché zilinski chiederemi se invece che zero li paghi 30 valgono tanto quanto molti di quelli che abbiamo visto prendere al milan la juve eccetera se quest'anno va male sciagulatamente non vinci lo scudetto tu comunque riparti con una rosa di ottimo livello l'anno prossimo dei giocatori li perdi per questioni contrattuali anche con dei pesi a bilancio non banali e allora lì hai lo spazio per fare il grande colpo liberi arnauto invece correa ti si libera un posto davanti più tanto spazio a bilancio ti sparo il nome che si fa in questi giorni ci butti jonathan david per esempio e allora riesalti la tifoseria in vista di una stagione in cui devi ridare l'assalto ad un altro titolo il nome david era sparato e allora si potrebbe trovare questa logica qui forse logica dello stringiamo i denti adesso e poi l'anno prossimo ci divertiamo con gli introiti della champions una situazione di conti miglioramento e il mondiale per club tra l'altro che porterà nuovi nuovi ricavi in definitiva quindi se vogliamo sintetizzare con un voto io ce l'ho un mio po' che fa discutere ma io ti dicevo prima faccio un po' la media fra le due considerazioni che ho fatto prima nel lato più prettamente societario di ragionamento loro secondo me il voto va ampiamente sopra l'otto per quello che la società intra ha detto che avrebbe voluto fare e che ha fatto per quello che invece secondo me si poteva fare e in questo caso non si è fatto siamo comunque sulla sufficienza perché non posso dare l'insufficienza per quello che dicevo prima quindi tra un otto e mezzo un sei sei e mezzo media più o meno sette sette mezzi per quanto mi riguarda ok sì sette è un po' il voto più tradizionale che ci sta io da tifoso l'animo tifoso a questo mercato da un sei più il mio animo tifoso puro dentro quello che vuole sognare col mercato l'animo più analitico va sopra l'otto però come come dicevi anche tu quindi mi posiziono così fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate anche voi mettete i vostri voti a questo mercato nero azzurro e dateci un po' le vostre opinioni con gli obiettivi di questa stagione e non solo ne parleremo poi anche nel club di passione inter su www.passione inter.club mi raccomando vi aspettiamo lì grazie a tutti